Buongiorno a tutti, anzi dovrei dire buonanotte, ma fa niente, fa niente perché tanto sapete che i miei criceti veramente sono un danno, sono veramente un danno. Ieri pomeriggio, anzi peggio ancora, ieri mattina avevo fatto partire il video quello che appunto è uscito adesso. Buonanotte, c'è messo 12 ore qualcosa di simile, non ho veramente parole, cioè io ero già convinto, bello tranquillo, no? Dico vabbè torno a casa sarà sicuramente online, comunque bando alle ciance, ciancio alle bande, veniamo a quello che è successo nei preliminari di Champions League perché veramente sono usciti fuori dei risultati che mi hanno lasciato basito. Alcuni ci stanno, altri appunto lasciano basiti. Ma partiamo con le partite di martedì perché martedì si è giocato Pauk, Salonico-Besittas ed è finita 3-1. Un risultato che il Pauk e una certa squadra milanese ne sa qualcosa, fa spesso in casa. Un 3-1 al Besittas e lì ci poteva anche stare, anche se è una partita comunque equilibrata perché il Besittas non è certo l'ultima arrivata. L'altra invece era abbastanza scontata, la vittoria di misura della Stella Rossa in casa del Tirana. Veniamo a mercoledì perché mercoledì alcuni risultati hanno seguito il pronostico, altri hanno lasciato appunto basiti. Partiamo da Z Almar-Plizzen che è finita 3-1. Bella vittoria della Z Almar perché comunque il Vittoria-Plizzen o Pupazzen come lo diciamo a qualcuno, qualche scherzetto alle italiane l'ha fatto e comunque spesso bazzica in Europa. Proseguiamo con Lokomotiv Zagabria-Rapid-Vienna, finita anche questa, finita 0-1 con la vittoria del Rapid-Vienna. Ci stava, i pronostici davano favorito il Rapid. Sorprese invece per la sconfitta del Ludo Goretz contro il Mid Italian, squadra danese. Una squadra bulgara che come ben sapete è uscita nei sedicesimi contro l'Inter di Europa League, quindi una squadra comunque abituata all'Europa si fa eliminare dal Mid Italian, squadra danese sì, però surprise. Poi c'è stata la vittoria della Dinamo-Bressu-Sarajevo che era anche questa nei pronostici quindi ci stava e poi c'è la sorpresa dell'Eggia-Varsavia, squadra polacca, che perde in casa 2-0 contro l'Omonia, presumo Nicosia, di Cipro, squadra cipriota, addirittura per 2-0. Cioè, questo mi ha lasciato abbastanza basito. Il Cluj viene eliminato dalla Dinamo-Zagabria, calci di rigore dopo che le due squadre hanno terminato i tempi regolamentari e presumo anche i supplementari sul 2-2 e la Dinamo-Zagabria ha avuto la meglio per 6-5 ai calci di rigore. Ci può stare. Dinamo-Zagabria che ricordiamoci ha battuto 4-0 l'Atalanta, eh? Quando l'Atalanta ha iniziato il girone di Champions, Dinamo-Zagabria-Atalanta 4-0. Quindi non è... Era una partita equilibrata, io ho messo l'1-2, va bene, non lasciamo perdere i pronostici. Non sono qua per dirvi come sono andati o non sono andati, ma è solo per ragguagliarvi sui risultati. Poi lo Young Boys ha battuto 3-1 il Ki, risultato che ci stava tutto, come da pronostico. E poi c'è la super sorpresa, perché questa veramente è una sorpresa. Mentre le altre sì sono sorprese, ma che possono capitare, perché comunque non è che stiamo parlando di super squadre, un Celtic Glasgow che mi perde in casa col Ferain Baros, questa fa notizia. E il Celtic Glasgow, scusate, è riuscito a perdere in casa 2-1 col Ferain Baros. E' vero che non c'era il pubblico, è vero tutto quello che volete, ma una squadra scozzese che mi perde contro una squadra ungherese mi lascia alquanto basito. Proseguiamo con gli ultimissimi risultati. Il Maccabi, va bene, è andato a stravincere in casa del Sudovia 3-0. Il Quarabaga ha avuto, diciamo che è un po' di fatichetta, l'ha fatta per battere lo Sherry, ma alla fine ha vinto 2-1. Il Ceglie ha perso in casa col Molde 1-2, questi erano tre risultati che erano, tra virgolette, abbastanza scontati. Il Molde era favorito sul Ceglie, il Quarabaga era favorito sullo Sherry, su Dovin, sul Maccabi. Comunque, queste sono le squadre che hanno passato il turno. Ci sono le eliminazioni importanti di Besittas, che però è stato eliminato dal Pau, quindi ci può stare, ma soprattutto del Cluj, del Legge a Varsavia, del Ludo Goretz e soprattutto del Celtic Glasgow. Quindi, è vero che sono squadre di terza e quarta frascia e francamente non dovrebbero impensierire più di tanto le nostre formazioni, quindi chiunque passi tra queste squadre, poi eventualmente vada a finire nei gironi di Juventus, Inter, Lazio e Atalanta, non penso che possano cambiare più di tanto la questione. Diciamo che probabilmente prima e seconda fascia sono le squadre da tenere d'occhio, meno per la Juventus che è in prima fascia, di più per le altre squadre che ahimè sono in seconda barra terza fascia. Adesso l'Atalanta è in quarta fascia, l'Inter è in terza e la Lazio temo che sia anche là in quarta fascia, quindi staremo a vedere cosa capiterà e quindi per Lazio e Atalanta queste squadre contano poco perché difficilmente ce ne sarà qualcuna che entrerà in terza fascia. Forse, 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 beh, tra queste no, di sicuro. Poi ci saranno le altre che entreranno successivamente e la cosa si farà più interessante. Sono quelle che avevo elencato in un mio articolo su Interline, ma adesso non mi sovvengono. Erano 4 o 5 squadre abbastanza titolate, chiamiamole così, che avevano un coefficiente UEFA migliore dell'Inter e quindi erano a rischio che potessero portargli via la terza fascia, ma essendo l'Inter diciottesima, essendo le uniche solo 5 le squadre che potevano portargli via quella posizione perché la potevano mandare indietro. Io parlo di diciottesimo posto nell'ambito delle 24 già qualificate, poi ce ne sono altre 8 che sono quelle, tra virgolette, che si stanno giocando questi preliminari. Adesso queste sono le squadre, diciamo, minori, tra virgolette, poi successivamente ci saranno gli turni successivi in cui subentreranno squadre più blasonate, tra virgolette. Comunque io vi ho ragguagliato sui risultati, domani naturalmente vi ragguaglierò anche sull'Europa League, sì, domani, nella notte tra giovedì e venerdì per intenderci, adesso siamo a giovedì mattina, quindi vi ragguaglio adesso sulle partite di Europa League, con le sorprese naturalmente, ce ne sono state, le temevo, le temevo le sorprese, però non mi aspettavo delle sorprese del genere, soprattutto un Celtic che mi perde in casa col Feren Baros. perché anche la stessa Ludo Goretz che mi perde in casa con, aspettate, eh, con il Miditalian, spero di averlo pronunciato giusto perché queste sono Midi, 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 Midi Land, Midi, 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 non Midi, 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 Midi Land, è anche impronunciabile, sorvogliamo. Probabilmente sapete perché? Perché quando ero giovane, qualche giorno fa giusto a me, e giocavamo con l'Intellivision all'hockey e c'erano le partite di coppa, ci divertivamo noi ragazzini a sfidarci, scegliendo le partite di coppa, scegliendo due squadre, facevamo un tempo per uno, sfidandoci appunto a hockey, anziché a calcio, e il risultato lo consideravamo come se fosse la partita di coppa, ecco. Quindi ogni tanto ci capitava di giocare col Midi Italian, o ci inventevamo squadre con nomi similari. Vabbè, lasciamo perdere i ricordi di infanzia, io vi ho ragguagliato sull'Europa League, adesso vedo se fare un altro video o meno, probabilmente sì perché poi giovedì è una giornata abbastanza impegnativa perché ho 16-18 il turno con Interlive, poi dopo ho il mio turno al ristorante che vi stavo parlando, poi ve ne parlerò quando sarà il momento. Ciao!